Io mi sto facendo i cazzi miei, era un mercoledì, quando a un certo punto mi arriva un messaggio su Instagram, o i DM intasati da pornostare e modelle di fama internazionale, ma questo sarebbe stato diverso, scopriamo perché. Questo profilo con 45 follower usa le foto di una pornostare. Utilizzo di congiunzione. Ciò che perdi in errori grammaticali, lo riacquista nell'essere molto diretto, mi piace. Sono quasi certo che copie incolli messaggi. Ciao. 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 Lo sto infastidario e gli scappa una parola in quella che, con ogni probabilità, è la sua lingua madre. La sua lingua madre è la 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 lingua madre. Ad un certo punto mi mando una schermata per farmi vedere la sua mail ed è tutto scritto in francese. La sua lingua madre è la lingua madre. In nessun momento abbiamo la certezza di conoscere veramente chi si cela dietro uno schermo. Solita frase detta da un sessantenne incravattato ad un incontro sulla sicurezza online che ha fatto saltare le due ore di aggiungere materie delle superiori a piacimento. E qui ci rivolgiamo soprattutto ai giovanissimi. E perché no? Anche il boomer. Internet è la lingua madre è la lingua madre è la lingua madre è la lingua madre. E qui ci rivolgiamo soprattutto ai giovanissimi. E qui ci rivolgiamo soprattutto ai giovanissimi. E qui ci rivolgiamo soprattutto ai giovanissimi.